L'11 novembre al Teatro Santi di Bottega si terrà Gioca con il Cibo, appuntamento che rientra nell'ambito del progetto No Profit Mega Futuro allestito dalla Megavolle Next Gen che mira a supportare a 360 gradi giovani atleti nella loro crescita personale e professionale. Nell'occasione nutrizionisti spiegheranno come l'alimentazione influisca sul benessere, l'energia e la salute degli atleti, trasmettendo ai giovani l'importanza di un corretto approccio consapevole al cibo. Nella nostra nuova generazione in questo momento abbiamo tante informazioni in giro e vogliamo insegnare a loro, insegnano a loro come è importante ascoltare loro stessi, come è importante vivere il momento e come è importante sentire. Questo tema è speciale perché è legato con tutti i nostri sentimenti, le nostre energie, il benessere, la salute, è legato anche con il sport, perché come benzina, cosa mangiamo e dopo mostriamo sul campo. Nell'occasione ci saranno le relazioni di nutrizionisti come Federica Romagnoli, Michele Rampino e Nicole Campitelli, oltre alla giocatrice della Megabox nonché della nazionale campione olimpica Gaia Giovannini. Il tema della nutrizione sta diventando un orientamento necessario perché comunque la forma fisica si ottiene anche attraverso la nutrizione. Questa iniziativa è rivolta ai giovani, noi pensiamo di dare una dimensione della città di Vallefoglia con il forum dei giovani che costruiremo, io ho dato una delega al consigliere Gianluca Vichi che è uno dei consiglieri più giovani, per costruire un rapporto continuo e costante. Questa è la prima iniziativa fatta insieme col mondo dello sport, perché Megabox è il mondo dello sport, per rendere protagonisti i giovani del futuro della città di Vallefoglia. E questo lo vogliamo fare anche con le donne perché pensiamo che possono essere le ragazze e i ragazzi protagonisti di questa città. Il binomio con Megabox è molto importante, per noi è anche un impegno finanziario notevole perché mettiamo 2 milioni e 400 mila euro per portare il palazzetto dello sport a 10 metri, 1500 posti per fare i campionati italiani e europei in quel palazzetto dello sport. Per noi è un impegno vero, serio sui giovani, sul futuro, sullo sport. E diciamo sarà pronto il palazzetto intorno all'inverno del 2025. L'impegno che si è preso, si è presa la ditta, l'impresa con me è Natale 2025. Sono già iniziati i lavori, abbiamo spostato anche il mercato con non poche possibilità. Abbiamo dato una mano a trovare gli spazi necessari per giocare, fare gli allenamenti nelle strutture qui di Vallefoglia, che non era semplice nemmeno quello. Quindi lavoriamo d'amore e d'accordo.